Diciamo che da Genova venire alla Spezia in pratica siamo l'unico coro che fa riferimento al gruppo Alpini. L'origine del coro è dovuto all'iniziativa del 1969 degli Alpini ed erano anche tanti nel gruppo degli Alpini Santa Margherita che volevano cantare, avevano cantato durante il servizio militare o durante la guerra e allora avevano avuto l'idea di costruire un coro. Il coro è il mese dell'abrile, il coro è l'occhio treno che andava al confine. Si trasportavano i migliaia degli Alpini, su su correte è l'ora di partire. Sono canti che si ripetono negli anni, sono stati inseriti anche dei canti nuovi durante gli anni e abbiamo avuto anche delle contaminazioni. Abbiamo fatto un Natale, un canto, la preghiera accompagnato dalla filarmonica Cristoforo Colombo di Santa Margherita e da una solista, è stato fatto un DVD, è stato fatto un CD e ci è stato detto che è stato consegnato al Santo Padre nella sua visita a Genova e aspettiamo che magari non si sa mai che ci voglia invitare per cantarglielo personalmente. Questa è una novità e ci fa onore. Non è scura la sera, ma il canto di uccelli accende le barri, ma il canto di uccelli accende le barri. Proprio in vista del cinquantesimo anniversario avremo piacere, se qualcuno ha intenzione di percorrere il nostro stesso percorso musicale può venire a trovarci, il mercoledì noi proviamo e se la cosa gli piace saremo felici di poterla avere con noi. Soprattutto le voci tenorili che sono un po' una rarità nella nostra zona e se qualche tenore magari in riposo volesse ridestarsi e avere l'interesse per quello che facciamo, per i canti che facciamo, ci farebbe molto piacere averlo con noi.